La comunità di Monte Paone piange la scomparsa della giovane ragazza a 23enne deceduta nella propria abitazione. Ancora sconosciute le cause del decesso. Nonostante l'immediata richiesta di soccorsi, l'ambulanza proveniente da Isca sullo Ionio ha impiegato 18 minuti ad arrivare e l'equipaggio sprovvisto di medici ha provato a rianimare la giovane ma inutilmente. Per la famiglia qualcosa in più si sarebbe potuto fare, ma stabilirlo sarà ora l'esame autoptico ordinato dalla procura della Repubblica di Catanzaro a seguito di una denuncia presentata alla stazione dei Carabinieri. La presenza di un'equip priva di medici riporta attuale il tema della mancanza di ambulanze medicalizzate che al di là del caso specifico tutto ancora da verificare è al centro di accese discussioni sul territorio.